Oggi è una bella giornata di sole, l'ideale per fare un giochino con una carta fotosensibile. Questa carta è fotosensibile. Ciò significa che si comporta come la pelle umana, cioè si abbronza. L'azione del sole sulla gelatina, che contiene allogenuri d'argento, produce un progressivo oscurimento. All'inizio la luce non produce un oscurimento molto evidente. Bisogna lasciare trascorrere molto tempo per poter osservare un cambiamento oggettivo. All'inizio è l'alimentazione.